C'è la pizza rossini con maionese e uova sode. Delizia, affronto a Dio, lo scopriremo insieme. Prova degustazione. Allora, non fa per niente schifo, è quasi anche buona. L'uovo non si sente quasi per niente, è molto delicato. Sa proprio da pizza margherita però più ludra, come se fosse tipo una crema, una crema bella godereccia. Però l'uovo si sente veramente pochissimo, molto delicato, proprio sofisticata questa pizza.